Io credo che l'esplorazione dello spazio sia stata forse la prima volta in cui l'umanità ha visto la Terra dal di fuori e ha cominciato ad apprezzare l'unicità di questo pianeta, il colore azzurro, gli astronauti l'hanno battezzato il pianeta azzurro perché ovviamente domina il colore dell'oceano. Quindi un grande cambiamento di passo l'idea di poter vedere il pianeta per quello che è una macchia di colore in un grande mare di nero. Grazie a tutti. Grazie a tutti.